Buonasera, 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 ci vuole una scaletta, ci vuole una scaletta, per raggiungere questo ragazzo, allora, siccome io in questo momento rappresento tutte le donne del Sabbia d'Oro, mi sacrificerò e gli do un bacio, benvenuto al Lido Sabbia d'Oro, benvenuto a Manopoli, perché io so che ci siamo visti prima e tu mi dicevi che è una zona che non conosci tanto, non conosci bene, mi servirebbe una guida, c'è qualche volontario, mi sa che caschi molto bene, qua sono tutte donne in fiamme per te, giustamente, insomma Jack, un inverno molto caldo, anche se sei una contraddizione, però è un inverno intenso per te lo scorso, è stato molto molto bello, con le grosse qualità e ora sto prendendo i frutti, allora, visto che ha detto che sta cogliendo i frutti di quest'inverno, lavorativamente, e quindi per il momento, attenzione, ha detto una cosa importante!